Musica Iniziativa in favore della scuola materna, di cosa si tratta? Allora, siamo stati contattati da queste signore perché avevano desiderio di offrire qualcosa ai bambini della scuola d'infanzia. Ormai questi bambini sono tutti tecnologici e chiaramente hanno bisogno per fare i loro spettacoli e le loro cose, di musica, di quello che immagine e tutto il resto. Allora, loro si sono orientati su quello che è più moderno per questi bambini e ci hanno offerto per Natale questa bellissima sorpresa. Abbiamo ricevuto dei bellissimi doni e noi li ringraziamo. Ringrazio io a nome della sezione A, B, C, D, E e dei 140 bambini che comunque sono in questa scuola d'infanzia di Favria Canavese. Oltre a questa iniziativa, sempre queste signore hanno pensato di riorganizzare per domenica 14, durante il mercatino dell'obbistica, un altro momento in favore della scuola d'infanzia. Noi saremo in questo mercatino e di nuovo con loro potremo raccogliere dei fondi per questa scuola perché i giardini della scuola sono privi di giochi. E dato che i bambini durante la primavera dovranno di nuovo uscire e muoversi, hanno pensato che quello che si raccoglierà verrà devoluto in giochi per i due giardini. Grazie. Grazie a tutti.